La 11esima edizione della Corsa Rosa, un evento sportivo ma un evento sociale, un evento che come vedremo e sentiremo dai vari interventi è una manifestazione dai molti aspetti. Io darei subito la parola al Presidente del Comitato Busco di Brescia, Ivano Banchi. Grazie Emanuele, grazie a tutti voi per essere qui oggi. Il prossimo primo marzo si invognerà la 12esima edizione della Corsa Rosa. Anche quest'anno ci sono aggiunte alcune associazioni a lungo elenco di coloro che con noi preparano e organizzano questo appuntamento atteso da migliaia di donne della nostra città e della nostra provincia. E sono le due nuove associazioni, Paola Camminapitrovi e il Cerchio degli Uomini. Perchè si chiederà che ormai alla Corsa Rosa sia il nome degli uomini, ma il Cerchio degli Uomini è un'associazione nata a Brescia da alcuni anni che si preoccupa dei maschi maltrattanti. E quindi sta dentro, lo vedo, in maniera molto precisa, dei significati che dobbiamo alla Corsa Rosa. La voglio ricordare brevemente, ancora una volta, le motivazioni che hanno portato l'UISP e in particolare le donne con l'UISP, che non ringrazieremo mai abbastanza, a inventare la Corsa Rosa. Siamo ancora troppo lontani dal traguardo della cessazione delle violenze sulle donne. Gli avvenimenti delle ultime settimane sono lo specchio di una mentalità ancora troppo diffusa e tollerata che vende le donne come proprietà di uomini e spesso di uomini in famiglia. C'è ancora bisogno di un grande lavoro e di presa di coscienza pubblica che possa portare tutti, ma in particolare gli uomini, all'accettazione delle differenze, al riconoscimento delle libertà individuali e collettive, al rispetto per le scelte di tutti e in particolare delle donne. Il secondo tema è quello della salute e della prevenzione, che passa attraverso la scelta di un'alimentazione corretta, all'adozione di stili vita che prevedono le unità motoriche e sportive, alle battaglie per un ambiente pulito che garantisca a tutti la possibilità di vivere in un mondo che è sempre più piccolo per i 7 miliardi di abitanti. La Corsa Rosa vuole attraverso un momento di festa e di condivisione sottolineare questi concetti e schierarsi nel campo di quelli che non si rassegnano allo stato attuale delle cose e che si impegnano per cambiare, anche con la borsa, il cammino, lo sport. L'amministrazione tiene in moto questa manifestazione e con l'USP investe su questa manifestazione, non solo per i numeri, perché oramai è dal punto di vista sportivo una delle corse camminate, l'unico motoria, più importanti della città, non solo perché permette a tantissime donne di andare in piazza insieme, di stare insieme la domenica mattina e quindi di muoversi, che è uno dei principi attivi dell'amministrazione, ma anche quello di stare insieme, di socializzare, di dire e dirsi che è un atto. Ma il terzo è quello che ci rende da un lato più egoicosi e dall'altro meno. Cioè ci piacerebbe che non dover ancora parlare di verità sulle donne, invece ci tocca farlo. Quest'anno sono sei le donne, dicevamo prima, fino ad oggi che provincia di Grescia, sono già state uccise, l'ultima Francesca Berizzone, e questo ci dà il segno di quanto è importante ancora continuare a parlare purtroppo negli univementi di questo tema. Io credo anche che, e lo dico tutti gli anni e l'ultimo continuano, che l'invito sia ai mariti, ai figli, agli accompagnatori di venire alla Corsa Rosa e dare un sostegno alle donne. La Corsa Rosa non è solo il piacere di praticare sport insieme, e quindi ritrovarsi tra donne e divertirsi. Ma con la Corsa Rosa e lo sport diventa uno strumento importantissimo per rifondere un messaggio culturale. Oggi più che mai urgente dire stop ai femminicidi. Per rispondializzare questo evento, ma anche con tutte le associazioni aderenti che sono 17, è davvero un motivo di orgoglio e soddisfazione, perché la grande presenza delle donne premia l'impegno costante di WISP di agire nel rispetto delle finalità istituzionali, di promozione sociale, di praticare sport per la salute e per il benessere. Una particolare attenzione vorrei dedicarlo alla nostra maglietta, il logo di quest'anno della nuova edizione. Anche quest'anno il logo è stato idealizzato dal trumettista Giuseppe Baimera, che vuole rappresentare un valore di partecipazione appunto, di condivisione, di consapevolezza e di responsabilità, che con la Corsa Rosa ogni donna che partecipa e anche gli uomini vogliono sottolineare insieme alla socialità dell'evento. Numeri molto importanti che necessitano un grandissimo lavoro e per questo un ringraziamento va fatto a tutto il comitato organizzatore che in questi mesi si sta impegnando al massimo per far sì che la Corsa Rosa 2020 sia un ulteriore grandissimo successo. Ma è un ringraziamento doveroso soprattutto all'amministrazione comunale che collabora con il comitato organizzatore nella migliore uscita dell'evento. Ma un grandissimo grazie va a tutte le aziende che con noi hanno condiviso questo percorso. Il cuore del successo della Corsa Rosa è sicuramente il lavoro di collaborazione, di partnership con tutte le associazioni. Ce ne sono quattro che quest'anno riceveranno un aiuto da parte della Corsa Rosa. e la prima associazione che vorrei chiamare è Ados Italia e abbiamo qui Gabriella Piacco. La nostra è un'associazione che con la nuova riforma degli enti del terzo settore è diventata l'associazione di promozione sociale. Noi promuoviamo benessere per le donne operate. Il cuore di donna è molto orgoglioso di partecipare per il terzo anno consecutivo alla Corsa Rosa. Come associazione noi divulgiamo la cultura della prevenzione, quindi per tutti i tumori femminili, in particolare quello del seno. Esa, educazione, salute attiva e abbiamo qui Anna Beltrano. La nostra associazione è un'associazione che nasce 13 anni fa per ricordare la mamma del nostro presidente che si chiamava Esa e che è morta di un tumore alla mammella. Quindi la figlia ha pensato di creare questa associazione proprio per la prevenzione del tumore alla mammella. Buongiorno a tutti, sono Frido Marmella, sono il presidente della cooperativa Zanzibia è una cooperativa che esiste da oltre 10 anni. Non ci occupiamo proprio di donne, ma trattiamo argomenti piuttosto importanti. Abbiamo un asilo nido che esiste già da 10 anni e che oltre ad essere un asilo nido si occupa della diversità. Quindi portiamo dei progetti, degli incontri con educatori disabili e trattiamo questi argomenti già con i nostri bambini.